ORIGINAL DISCO CALCIO Quindi sul fatto creativo non è che abbiamo delle grandi certezze Si va a feeling Ecco ti spiego una cosa I dischi importanti in qualsiasi epoca sono crossover Cioè i brani di Jane non li passava solo la radio nera Ma lo passava anche la radio pop Cioè quando diventi crossover ma così come Cooling the Gang o certi pezzi di chic Quando vai crossover lo dice la parola Sei crossover Non sei più bianco, nero, country, funky Non c'è più marketing Vai, vai, scivoli dentro un altro step E quindi succedeva che lo passavano a Paradise Garage, a Xenon 54 Ma lo passavano anche nei Tuguri di Harlem Come nelle discoteche gay di Londra o a Milano Dopo era crossover, capisci? Non era più bianco, non era più nero, non era più dense Stava in quell'equilibrio di mezzo che diventava crossover E quindi succedeva che diventava che diventava E quindi succedeva che diventava che diventava E quindi succedeva che diventava che diventava الله E quindi luc bisceriaivamente E quindi succedeviare o strontale Say forever Say forever Say forever Like the cross is risen, has the Emerald City Your red rubies and sapphires played with gold If you fell in love, will I be green with envy? I can't measure the life treasures that you hold Why do you have to be? You know I love you just the same You've been the joy of my life You've been the joy of my life You've always been my little one You're the pretty little picture that I painted in my mind You're the rainbow-colored scenery You're as infinite as time You're a miracle We'll make you mine Say forever Diciamo, il primissimo approccio viene così Un importatore di dischi di musica soul, dance, diciamo, americana Da quegli anni, da fine anni 70 Che aveva un negozio di importazione a Milano Che si chiamava Goodie Music Allora i dischi non venivano stampati in Italia su licenza Come viene dopo con le multinazionali La musica americana era americana E se c'era una ghiacciata alla Malpensa I dischi non arrivavano Per cui eravamo legati a tante cose Fatto sta che questo negoziante di dischi di importazione Venne a Bologna Perché io studiavo al conservatorio Insomma, a me piaceva il gesto Perché essendo trombettista mi piaceva ascoltare la musica nera, americana e così Si informò, diciamo, chi poteva Io studiavo anche gli arrangiamenti con un maestro di conservatorio Chi poteva farmi una versione di una canzone americana, dance Quindi lui venne giù, questo importatore Dicendomi, vorrei fare una versione extended Perché sai che allora i dischi donavano 20 minuti Cioè, una facciata era 20 minuti Quindi gli davano un'idea L'importatore era Freddie Petrus E quindi, c'è, la strana casualità della vita fu questa Un cantante bolognese di nome Marzio Che poi diventò Marzio, cantante di Maccio Uno dei primissimi musici che facciamo Ebbe quest'idea di fare il cover di I Am A Man Che era un brano di Steve Winwood Che vuol dire Traffic, quindi un pezzo Cosa succede? Che questo importatore, ecco, americano Questa è la connection esatta E fu interessato all'idea E disse, perché no, mi piace l'idea di fare I Am A Man In versione dance Come andava allora Che ti ricordi, ti ricordi, non so Moroder faceva una versione di 20 minuti Quindi questa fu l'idea Quest'idea di fare il cover di I Am A Man Quest'idea di questi importatori Che eri interessati a realizzarla Vennero da me a chiedermi Se mi interessava fare uno di questi esperimenti Perché io venivo dalla classica Non avevo mai fatto un pezzo dance Non sapevo neanche cosa fosse Allora andava a Cerrone Poi mi feci sentire Giorgio Moroder Poi mi feci sentire un disco americano Che non mi ricordo Che durava 20 minuti In poche parole mi dissero Mi ricordo benissimo Quasi come un compito che si fa a scuola Tu devi fare il tema Le variazioni Poi devi tornare Poi devi fare qualcosa Ma il fatto sta Che tutto il gioco deve durare 20 minuti Boh, ci posso provare E per esperimento Ci abbiamo provato Senza dare nessuna garanzia Tutto è nato così Per caso Andiamo in studio Marzio Vincenzi Venne da me Anche lui Perché lì aveva un'orchestra Diciamo da ballo Lui suonava Nelle ballere Dice proviamo a fare questa cosa E quindi nasce questo esperimento Marzio va da Fred Petrus Che mi piace l'idea di realizzare I'm a man extended E noi andiamo in studio E cominciamo a buttare giù delle cose Parliamo col tema Poi facciamo le variazioni Poi inventiamo una parte Poi aggiungiamo un coro Poi aggiungiamo un riff Poi sì No, più che altro Diciamo l'arrangiamento strutturale L'ho fatto io Però dopo dico Davide vieni a suonare il basso Inventami qualcosa Ci mettiamo lì, suoniamo Che invece di Atriba A lui all'inizio non piaceva Perché avrebbe preferito Un suono più pulito di basso Lui E invece io In quel momento Chiavo le corde Invece di toccarle tutto pulito Per essere un po' più aggressivo Le menavo Perché allora era tutto suonato Non c'era il digitale Non c'era il computer Realizziamo questa Extended Vest D'Ammen Cantata da Marzio Cantante bolognese E una piccola etichetta americana Che si chiamava Prelude Lo pubblica E fa successo E' stato un po' più aggressivo Grazie a tutti 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 No Grazie a tutti 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 Dopo Grazie a tutti 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 There's Grazie a tutti 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 Grazie a tutti